Infortunio sul lavoro stamani in un'azienda di Contrada Calderaro. Un operaio 50enne, Resino, è rimasto ferito mentre effettuava operazioni di manutenzione su un camion. Per cause, in corso di accertamento, l'uomo avrebbe riportato una frattura al bacino ed una sospetta emorragia interna. Immediatamente è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Elia per le cure del caso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi.